Eugenio Carmona è il curatore della mostra di Palazzo Strozzi, Picasso e la modernità spagnola. Professor Carmona, iniziamo dalla storia. I primi tre o quattro decenni del Novecento sono per la Spagna un momento molto problematico dal punto di vista sociale e politico. Come tutto questo ha influenzato l'arte spagnola di quei decenni? Sì, ha influenzato molto di una maniera particolare. Alla fine dell'Ottocento la Spagna era un paese in decadenza, ma erano tanti intellettuali, politici, scientifichi, artisti che volevano trasformare tutto, che si è pensato in una idea che era che se si trasformava l'arte si faceva una apportazione alla trasformazione generale del paese. E Picasso ha conosciuto questo, questo che si chiama da noi regenerazionismo, lo ha conosciuto a Madrid e dopo a Barcellona, ma a Madrid quando lui ha fondato la rivista Arte Giovane, Arte Joven, ha conosciuto tutti questi intellettuali e ha preso questa mentalità. Dopo lui ha viaggiato a Parigi, si è stato lì, per tanto tempo l'unica preoccupazione di Picasso era quella di trasformare l'arte, ma dopo di più in più lui ha raccontrato la relazione con la Spagna reale e questo era un rapporto che cominciava ad essere più grande fino a che il governo democratico della Repubblica ha fatto di Picasso il direttore del Museo del Prado. Perché ha fatto questo il governo democratico? Perché aveva visto che Picasso era il mito che significava che si poteva trasformare il mondo, si poteva creare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo rimanere con la memoria e l'essenza di quello che c'è la storia, la cultura della quale uno provenga. E questa sintesi di Picasso era una sintesi particolarissima e tutti gli spagnoli che in Spagna sguardavano Picasso volevano dire questo, arte nuovo per una Spagna nuova. E questa era la dimensione politica che Picasso liderava. E dopo, quando è sopravenuta la guerra, Picasso ha fatto il caso di essere della parte della Spagna democratica, il Garnica, tutto questo. Lei ha scritto in un suo saggio che la pittura di Picasso oscilla tra due momenti creativi, tra due fattori creativi, il tragico e il mostruoso. Ce lo può spiegare? Sì. E quello si può vedere bene quando si pensa nel momento che Picasso deve realizzare il Garnica. Picasso ha accettato l'incarico del governo di fare un grande quadro per difendere la Spagna democratica, ma Picasso quando va a cominciare a lavorare pensa e lo ha dito ai suoi amici, non so che cosa fare, perché mai ho visto una guerra, perché mai ho visto un bombardamento, perché mai ho visto tutte queste cose. Che posso fare? E Picasso ha tirato del suo immaginario, e ha tirato del suo immaginario quando lui ha visto che voleva parlare del mostro, del mostro sotto la raffigurazione del Minotauro, perché era come l'espressione della epoca, era come l'espressione degli anni trenta, dei cupi anni trenta, no? Questa figura di un personaggio che allo stesso tempo è un mostro e umano, che allo stesso tempo è amato, ma che fa distruire qualcuno che se le avvicina, no? E Picasso ha fatto di questa serie, ha analizzato tutti gli elementi e li ha trasformato nella serie del Garnica per parlare della distruzione finale. Comincia nel mostro e dopo va alla tragedia. E voglio dire che come tutti i conoscitori di Picasso sono d'accordo in questo, l'ultimo libro di Palau Fabre, che è il grande conoscitore di Picasso, un libro prossimo, si chiama Del Minotauro a Garnica, ma che come i disegni preparatori o relazionati con il Garnica sono nel Museo Renasofia, qui a Firenze, e non si possono mostrare molto perché sono delicati, qui a Firenze è la prima volta, non che si parla o si scrive di questo tema, è la prima volta che si insegna, che si mostra e questo credo che è importante. Grazie infinita Professor Carmona. Grazie. Grazie. Grazie.